Nelle ultime ore si è ipotizzato lo spostamento dell'edificio dell'ex San Gritana qui alle mie spalle, ma al momento tutto sembra funzionare regolarmente. Guardate. Nella giornata di ieri è infatti scoppiato un polverone sull'edificio dell'ex San Gritana, punto informativo per turisti posto nella piazza d'ingresso del centro storico dell'Aquila, tra la Fontana Luminosa e l'Auditorium di Renzo Piano. In particolare la presidente della circoscrizione L'Aquila Centro, Fabiana Costanzi, ha richiesto lo spostamento del manufatto perché non è di proprietà comunale ed occupa indebitamente suolo pubblico senza pagare alcuna retta al comune. In più, afferma Costanzi, il servizio di vendita dei biglietti dell'AMA può essere svolto dall'edicole, mentre quello della vendita dei biglietti per i trasporti extraurbani non è più necessario, dal momento che le corse fuori città non transitano più nei pressi della Fontana Luminosa. Per questo, e per restituire una visuale più ariosa alla piazza, è auspicabile lo spostamento della struttura, anche perché, conclude Costanzi, dai documenti comunali si evince che nessuno paga l'occupazione di suolo pubblico per quel manufatto. D'altro canto, invece, i due dipendenti dell'edificio dell'ex San Gritana vendono circa un migliaio di biglietti al mese e sono un punto di riferimento per i turisti che visitano il centro storico. Essi sostengono di non sapere nulla al riguardo, continuando a svolgere il proprio servizio verso i cittadini come ormai da quasi dieci anni. Grazie Grazie Grazie